Ti avevo detto che oggi non saremmo stati da soli, giusto? Ma con le repressioni non commenti! Aspetta però, prima di sbilanciarti, aspetta ora! Non mi sbilancio mai! Io ho apprezzato il messaggio di questa persona che a un certo punto ha detto chiudiamo completamente quella storia lì, ho un sospeso, ho qualcosa che mi sta ancora in testa, rimbomba in testa è questa cosa con Lello, perché io, te e Tino abbiamo chiuso, ma resta Lello e quindi ho deciso che questa è l'unica persona per il momento, dopo tutto questo tempo che faccio entrare nel nostro spazio, in questo spazio protetto Te la senti? Io non accetterei Tu non accetteresti, stai ancora in queste condizioni Siamo sempre noi tre, noi tre rimarremo Ma noi rimarremo sempre noi tre, questa è una cosa occasionale fatta in funzione di una richiesta specifica quindi io ritengo che almeno dobbiamo sentirlo Trappi di tu, io, aria! Te ne vai! Aria! Aspetta, aspetta un attimo Allora, io, Tino, ti... Rifletti prima di parlare Rifletti Non conta fino a dieci Poi dici quello che... Mettiti a sole, così rifletti Metti tu a sole Allora, facciamo così Intanto lo presentiamo, Tino Intanto lo presentiamo e quindi vorrei che tu andassi alla tua destra Per presentare, sì, lui, lui, proprio lui Lui, ragazzi, lui, lui, sì, lo so, siete tutti meravigliati State tutti trasecolando, state tutti svenendo È lui, è lui, è lui Allora, il maestro inglese di corno francese Sta qua, ecco qua, sta qua Non ci posso prendere Lo so, Tino, lo sapevi nemmeno tu Lo so, lo so Allora, io direi che il maestro può... Mi posso avvicinare Assolutamente sì Allora, te ne stai andando Allora, noi dobbiamo intanto... Lello, ti volevo dire solo una cosa Lontano dalle telecamere Lontano dalle telecamere? Lontano dalle telecamere Allora, lei, ci hai pensato bene? Ma, mi batti... No, mi dimmi, dimmi, dimmi Mi batti la mano? Che sarà come dici tu o come dico io? Ti batto la mano Da uomo o da bambino? No, da uomo, lo sai, solo da uomo Allora, Donato, abbiamo fatto il nostro conciliabolo E ha deciso che ti vuole ascoltare Ti vuole ascoltare rispetto a questa cosa sospesa Che è rimasta della nostra storia passata Cosa puoi dire, Allello, rispetto a tutto ciò Che è venuto fuori da quei video Da quelle situazioni là? Innanzitutto mi ha fatto piacere che abbia accettato E poi il fatto che... Lì, dici che si divertiva all'epoca Ma non so se è cambiato poi la... La maggior parte delle cose che diceva erano divertenti Mi fa ridere quando tu Sprite Sprite, Sprite, Sprite Mi fa ridere, non so se era sincerissimo Si, era sincerissimo Si divertiva, quindi ho fatto passare dei momenti insomma Spensierati, certo Poi, quando invece andava a inzuppare il Savo Iardo E allora lì, ha un po' Però, quella ormai è acqua passata Noi abbiamo chiuso definitivamente Vorremmo... Però con lui assolutamente no Eh, non l'abbiamo ancora fatto Quindi vorremmo che ci fosse una stretta di mano Una stretta di mano affinché si chiuda questo capito Aspetta, poi voglio capire anche lui Stop out E perché tu automaticamente l'hai denunciato E poi l'hai ritirato? Perché lui ha fatto un gesto Ha fatto un gesto distensivo Rispetto all'ipotesi di chiudere tutto Quindi io che sono una persona non rancorosa Ho detto ok Donato, maestro inglese Facciamo pace Il fatto stesso è che è venuto da Foggia Cioè, ti rendi... È venuto da Foggia E' una cosa incredibile Perché? Ma lui è più... Ma dopo che è più famosa da me Un altro po' Toma sempre castagna, eh Toma sempre castagna Stavi dicendo? Se ne ammettere che i tempi vanno avanti I tempi vanno avanti, certo Per tutti E allora? Io darei una stretta di mano Anche per premiare questa sua discesa da Foggia Tutti quanti No, assolutamente Io ti dico semplicemente che io Mezza, due, tre Sono sempre il numero uno Sempre Il numero uno Stringi da numero uno quale sei La mano al maestro inglese All'ex numero uno Passo il testimone Il testimone E passa il testimone Ragazzi Stiamo suggellando un momento storico Su YouTube E un momento storico Effettivamente Sono dei cicli Prima stavo in auge Adesso Sono stabilizzato Uno poi prende le strade Diverse Non è che stai sempre Eh certo Io spero per te che tu possa rimanere 10 anni, 20 anni Ma io Parlamo cicchiare Io saluto Perché devo andare sempre più alto Mai mezzo Mai abba Deve stare Io saluto sempre più di lui Molto su Tre parole hai scambiato Già ho notato che A parte vuoi fare tu personaggi È una persona molto molto intelligente Tutto quanto Vuoi dare per scegliere Quello è un sceme Non credito Voglio questo Va a ravogli a tutto quanto Non ci sono dubbi L'ho capito subito Perché lo faccio anche io Anche noi Giuseppe Questa è la telecamera Che facevo sempre Questa è la telecamera Avete creato Come ti posso dire Un format Un nuovo format Che forse anche io odiavo all'inizio Ma che poi penso che tutti gli utenti Hanno apprezzato Perché È anche un modo Lello Per strammatizzare Sul pezzo Per evitare Chi non è da problema Chi non è adorato Non voglio parlare Si è fuso il motore La grande mocca Per venire qui Addirittura Hanno leggiato la macchina C'è capito Che cosa ha fatto Quindi Va premiato Senza dubbio Io direi Tino Vieni anche tu Metti anche tu la mano Metti sopra la mano Lello Vieni anche tu Vieni anche tu Perché così E poi ci prendiamo a schiaffi Tutti quanti Meriteremmo degli schiaffi Tutti quanti E quindi ragazzi Così possiamo dire Di aver chiuso Definitivamente Questa cosa Che si trascinava Da un po' È vero o non è vero Lello? Dai sconvince Non sei convinto Come mi fa Se va bene o non va bene? Se si comporta bene Donati No ma si comporta Presse di te E di me No assolutamente no Che ho detto Posiamo Lasciateli in pace Perché ci ha Possiamo dire Possiamo dire Che effettivamente C'è stato proprio Un cambio radicale Anche nell'atteggiamento Non ho commentato mezza volta Non ho avuto neanche il tema Non avevo più Quando ho detto Ti ho conosciuto di persone Non ho capito Il problema Che hai Diversi poi In quella mezz'ora Va bene Io sono contento Veramente Adesso te lo dico Personalmente Del fatto che tu sia venuto E quindi Grazie Donato Lello ti ringrazio Anche per la tua maturità Per questa cosa qui Tino Che possiamo dire Tutto è bene Quel che finisce bene E per ora Chiude la porta Non stiamo dietro Non stiamo dietro le sbarre Ma siamo tutti Oh Hai visto E l'ho fatto apposto Ma non esce mai Non esce Non è tuo L'ho fatto apposto Perché così Si poteva E non fuori dalle sbarre Ma tu dentro Dentro il mondo di lei Anche io dentro Hai capito Ma farà duro bispero tu Per ora È solo per ora È quasi tutto C'è ribatriato Eh Eh Mamma